Siamo ormai in 27.000 su questo canale e sto registrando questo video solo nel rispetto dei vostri confronti L'avrete letto dal titolo, l'avrete capito dalla copertina e dal mio stato in questo momento Sono in uno stato di ansia E' qualcosa di davvero invalidante, non ti permette di fare nulla, non ti permette di pensare a nulla se non al motivo per cui tu hai ansia Wikipedia dice l'ansia è uno stato psichico di un individuo prevalentemente cosciente Che voi fatemi capire che significa prevalentemente cosciente, cioè significa che uno sta un po' qui un po' lì, non lo so ma va bene così Caratterizzato da una sensazione di intensa preoccupazione o paura E qua ci ha beccato in tutto Spesso infondata, e ragazzi vi è sicuro che la mia non è infondata Relativa a uno stimolo ambientale specifico Associato ad una mancata risposta di adattamento da parte dell'organismo in una determinata situazione Che si esprime sotto forma di stress per l'individuo stesso Porca miseria ragazzi, fate santo il signor Wikipedia Coltenuto stanno pure fallendo perché nessuno gli dona una lira Però tutti quanti ci fanno le ricerche, robe simili Infatti non mentite, quante volte avete stampato una pagina di Wikipedia E l'avete spacciata alla professoressa come una ricerca accurata e fatta su tanti siti Ma in realtà avete semplicemente levato sotto il coso tipo Wikipedia e il giorno in cui l'avete presa Non so se tutti lo sapete o se magari l'avete capito per conto vostro Ma vado all'università e faccio il terzo anno di giurisprudenza Molti creatori di contenuti hanno lasciato sostanzialmente gli studio, l'università o robe simili O comunque l'hanno accantonata per dedicarsi appieno a YouTube Intendendolo come un lavoro e come una prospettiva di vita Io personalmente intendo come prospettiva di vita quella di studiare e appunto magari crearmi una famiglia E qualcosa di reale Vedo YouTube semplicemente come uno sfogo perché io semplicemente gioco e quindi gioco assieme a voi Vedo YouTube come un modo di esprimermi al mondo E quindi poi semplicemente l'editare è un processo obbligatorio per mostrarvi un video ben fatto E appunto non portarvi un contenuto che io stesso disprezzo E quindi oggi vi beccate questa mia introspezione sull'ansia Perché porca miseria non ce la faccio più Davvero arrivo a un certo punto della giornata Verso tipo le 12-12 e mezza In cui io devo iniziare a pensare a cosa portarvi magari su Clash Royale O se iniziare a portare qualche altro gioco Oggi non ce la faccio, non riesco a pensare ad altro se non all'esame che ho a breve Ho continuato a leggere su Wikipedia quello che dice riguardo all'ansia E ve lo risparmio perché non sono super quark, non sono pieno Angela Però ragazzi semplicemente quello che dice è che questa situazione di stress Oltre a cacciarvi tipo dei vulcani sulla faccia Perché lo stress porta inevitabilmente a delle rotture di pale dal punto di vista dermatologico Crea anche dei disturbi in intestino, disturbi nervosi Disturbi che non vi fanno concentrare neppure sul motivo per cui voi avete ansia Cioè porca miseria io ho l'ansia perché devo fare l'esame quindi devo studiare E anziché studiare c'ho l'ansia qui che non mi fa studiare Ma cos'è sono io coglione o cosa? A volte ti verrebbe voglia di proprio entrare nel tuo cervello e picchiare quello che lo comanda Cioè io mi immagino tipo Inside Out che c'è appunto un tizio che gestisce la console Che in questo momento sta rincoglionito Cioè non pensa a niente perché non fa pensare a nulla E ne pensa a quello che dovrebbe pensare L'unico tasto che sa è quello di mandarti a cagare al cesso Semplicemente perché c'hai tutto il tumulto interno che non ti fa capire più un cazzo E appunto scarichi la tensione che in realtà poi si ricrea appena davvero esci dal bagno Vabbè poi qua Wikipedia proprio ne dà di tutti i colori Dice palpitazioni, dolori al petto, respiro corto, nausea, tremori interno Ma non è che ti stanno puntando una pistola e porca miseria C'ho l'ansia di un esame Cioè voglio dire palpitazioni e respiro corto Cioè davvero uno sta male a quel punto Cioè quella si chiama crisi di panico Non è che uno c'ha l'ansia Faccio questo video per più ragioni Innanzitutto siamo oltre 27.000 gnacchi su questo canale E credo che ad almeno alcuni di voi possa interessare Sapere la mia esatta condizione psicofisica di questo momento Perché ragazzi se a volte non sono lo stesso all'interno dei video C'è un motivo Ossia io sono una persona C'è carne e ossa Cioè se mi do uno schiaffo mi faccio male E quindi all'interno dei video non può non trasparire quello che mi accade all'esterno Quindi di questa stanza, di questa telecamera, di questa proprio inquadratura E oggi la mia condizione è tanto grave Da non permettermi appunto di entrare nel mondo videoludico assieme a voi E divertirmi assieme a voi Questo video quindi mi serve anche da sfogo soprattutto Perché magari parlare di come mi sento in questo momento Questo è un canale proprio di sfogo E un canale che mi permette porca miseria di inglobare Tutta questa merda Letteralmente in questo caso All'interno di un unico video E magari poi cacciarvelo Vedere voi cosa ne pensate Se anche voi avete mai avuto delle situazioni di ansia Se anche voi siete ansiosi perché magari tra un po' ripigliano le interrogazioni I compiti in classe perché oggi tipo a molti di voi sono già ritornati a scuola E quindi magari anche voi potete condividere con me questa situazione di merda E come terzo motivo faccio questo video anche per rispondere alla domanda Che in sempre più persone mi ponete sotto nei commenti Ed è anche giusto che voi la poniate questa domanda Ossia dove merda è finito se Royal fosse reale Ragazzi oltre che a darmi questa bruttissima sensazione di ansia Purtroppo stare sotto esame Lo studiare per l'esame stesso richiede davvero tantissimo tempo E se Royal fosse reale Per quanto magari voi possiate non crederci O comunque per quanto per voi possa essere una cosa tra virgolette banale Richiede davvero tantissimo tempo Ma proprio tanto Perché devo pensare comunque a una storia Devo pensare a delle battute comunque da mettere all'interno della storia Perché altrimenti sarebbe una cosa piatta così spiattellata Cioè a sto punto davvero vi leggo una pagina sull'ansia di Wikipedia Che faccio prima a quel punto Ma soprattutto poi mi devo calare nella parte Nelle voci dei vari tizietti Cioè la strega che parla in un certo modo Il mago che deve parlare in un modo simile alla strega Perché non so se l'avete notato Ma effettivamente è simile a quello della strega Perché sono entrambe entità magiche Ma comunque è diverso dalla strega Che ha un carattere più maschile Poi non vi dico neppure quante volte ho ripetuto Tutta la faccenda di quando c'era appunto il barista Perché il barista è romano Ma ha la stessa voce più o meno Della strega e del mago E qui non mi dilungo Perché altrimenti davvero farei dello spoiler E oltre questo poi devo anche montare Quindi c'è tipo io Registro per due ore Due ore e mezza Che ripeto davvero Arrafica sempre le stesse cavolate Quindi ragazzi se non vedete Se Royal fosse reale È per due motivi Sì vabbè uno l'avete ormai capito Perché non c'ho tempo Cioè non posso spiegare Quattro o cinque ore della mia vita Per quel singolo video Che magari Cioè ogni volta caccio il video Ci ho messo quattro ore a farlo E mi dite Lo vogliamo più lungo Lì mi parte proprio la morte celebrale Perché porca miseria L'ultima volta ci ho messo davvero Sei ore a fare il video Di tredici minuti E come secondo motivo È che ho in mente Una cosa speciale Cioè una cosa mai vista Dal punto di vista di Royal Che sempre in globe Effettivamente se Royal fosse reale E quindi una cosa Cioè che se non la condividete Non lo so Vengo davvero col megafono Penso al massimo del volume Proprio nelle orecchie Mentre dormite E appunto vi costringo A condividere quel video Ragazzi mi sono un attimino liberato Da questa situazione di ansia Perlomeno nel tempo Che vi ho parlato È stato davvero liberatorio Parlarvi E spero che anche voi Possiate scrivere qui sotto Nei commenti Se anche voi Vi trovate spesso In una situazione di ansia Come la affrontate Se la affrontate Oppure Non so Vi lasciate prendere dall'ansia Vi mettete in un letto Vi raggomitolate E mi drollate nel letto Davvero come se fosse Un gioco di merda Glicciato Vi invito a lasciare un bel like Perlomeno per farmi capire Se questa tipologia Di video Possa piacervi Se vi piace Il fatto che io vi parli Ragazzi Tra virgolette Col cuore Oppure se la vostra risposta È più alla rovazzi Del tipo Aspetta che ti mostro Il ca che me ne frega Detto questo Torno a studiare E di conseguenza Ci vediamo magari In un prossimo video Ciao Che situazione di merda Che situazione di merda